Sì, nel team mi trovo molto bene perché siamo italiani, quindi scherziamo, ridiamo, però allo stesso tempo lavoriamo molto bene insieme. Mi sento un po' un pioniere perché stiamo usando, sto provando una tecnologia che non è ancora conosciuta e può essere sviluppata per il futuro. Ho una cuffia sulla testa con degli elettrodi che sono legati a un amplificatore che sono connessi a un computer. Mi riconosce le mie onde celebrali che invio pensando a dei movimenti in base all'ostacolo che devo superare. Appunto elabora questi segnali e invia i comandi al gioco. Ho incontrato i ragazzi del team che mi hanno parlato di questo sistema. Non ci credevo molto all'inizio, adesso sono molto entusiasta di portare avanti questo progetto. Grazie. Grazie.